signori la cucina è una cosa seria quindi cari amici di tg event television sono ritornato in cucina perché dopo il grande diciamo la grande presentazione dei ceci della settimana scorsa che salutiamo ciao cari ceci oggi vi parliamo ancora di capolavori beh quelli abbiamo appurato che gli italiani sanno cucinare finalmente amano diciamo le tradizioni amano guardare i tanti programmi di cucina i tanti chef blasonati che sono sia in rete che in tv ma io da umile cuoco e divulgatore di informazione possa solamente dire questo oggi parliamo dei fagiolini e ne hanno di benefici i fagiolini le fibre dei fagiolini favoriscono la buona funzionalità dell'intestino e aiutano a proteggerlo da sostanze potenzialmente dannose riducendo così il rischio di brutte malattie inoltre possono aiutare a ridurre l'assorbimento di colesterolo e zuccheri quindi amici a casa questi sono i nostri fagiolini va bene il risotto va bene il souffle va bene insomma il frittino ogni tanto ma i fagiolini lessi fateli lessi un po' di olio limone la famiglia è felice perché mangiare bene è importante sapere cosa mettiamo in corpo è ancora più importante insomma aiutiamoci è un po' come la benzina per le macchine se la benzina in questo caso è buona la macchina funziona meglio e la macchina e il nostro corpo alla prossima settimana con il parleremo di come lo dico grazie a tutti grazie a tutti